Un patto anti-smog che coinvolga l'intera provincia di Milano e che attraverso la condivisione di una serie di strumenti riesca a bloccare o a limitare fortemente la circolazione dei veicoli più inquinanti. È il piano a cui sta lavorando il capoluogo Lombardo, che ha intenzione di proporre ai sindaci dei comuni della città metropolitana di piazzare nuove telecamere e metterle in rete in modo tale da permettere di individuare e in seguito sanzionare chi non rispetta le regole. In cambio della dotazione di nuovi strumenti, Milano metterà a disposizione una centrale operativa in grado di lavorare su tutto il territorio. La proposta arriverà sul tavolo dei primi cittadini giovedì, quando, proprio presso la sede della città metropolitana, la ex provincia, l'assessore comunale alla mobilità Marco Granelli terrà una riunione per cercare di illustrare il patto anti-smog e analizzare insieme agli esponenti delle varie giunte eventuali criticità. L'obiettivo è cercare di arrivare ad un'intesa che vada bene a tutti, perché non avrebbe senso attuare il piano in alcuni comuni e magari no in altri confinanti. Milano, tramite il proprio assessore alla mobilità, insisterà sul punto che non bastano le regole per poter combattere l'inquinamento. Servono anche strumenti che verifichino il rispetto dei divieti e consentano di individuare e in seguito multare i trasgressori. Questo piano muove i primi passi giovedì, ma vedendo coinvolti molti soggetti e prevedendo investimenti importanti, pare destinato ad essere realizzato compiutamente nel giro di un paio d'anni. Nel frattempo però Milano comincia a muoversi da subito in casa propria e sta aumentando le telecamere, che ora sono solo 19 ma in futuro dovrebbero diventare 140, che serviranno a studiare i flussi d'ingresso dei veicoli più inquinanti e poi a decidere una serie di nuove regole e annessa sanzione in caso di mancato rispetto.